Nei primi tre anni ho perso, ho perso soltanto, per tre anni, e ho perso tanto ovviamente. Allora, buongiorno a tutti, un altro video dello zio, sono io, lo zio. Allora, cosa mi racconta la mia esperienza di trader, ormai in 24 anni? Ecco, premetto che non mi piace far sapere esattamente che cosa faccio nei mercati, come lo faccio, e quello che è l'obiettivo di questo canale è solo dare una mano alla gente di non rovinarsi. Vi faccio presente che è un canale non monetizzato, non me ne frega un cavolo di farlo youtuber, non me ne frega nulla, di nulla. Io ho un lavoro, fortunatamente, che è il trader e non mi interessa nient'altro che condurre bene il mio mestiere. Questo è un di più, ed è un di più perché mi fa compagnia. Nel trading si sa che c'è da aspettare tanto, c'è da aspettare il momento giusto, esserci nel momento giusto e basta. Ed è esattamente quello che faccio. Anzi, tante volte neanche ci devi essere nel momento giusto, basta mettere un ordine limite, come faccio io di solito. Ma vi volevo parlare di un altro aspetto veramente interessante, che sono le considerazioni che posso fare sul quanto ho scoperto di me in tanti anni di attività. Quello che ho scoperto su di me è che bisogna per forza superare se stessi, superare le proprie convinzioni, fare solo quello che si vede nel modo giusto. E sapete, la cosa di per sé è facile a dirsi, quando si tratta di metterci dei soldi e rischiarli è un po' diverso, per cui subentrano tutta una serie di atteggiamenti che vengono fuori tipici dell'uomo. E io sono un uomo come gli altri, non è che perché sono un trader solo diverso, sono più bravo, sono più intelligente, no. Non sono proprio niente, sono uno solo che ha subito questa pressione negli anni, avendola subita pesantemente, con anche dei soldi perduti, chiaramente va a finire che uno due conti se li fa e cerca di capirsi perché le cose non vanno come devono andare. Ed è esattamente quello che è successo, cioè io prima di diventare un trader profittevole ho sudato sette camice e francamente ho superato dei limiti, direi, umani, cioè quei limiti che ci fanno sbagliare sostanzialmente, no. Quindi ho visto le fasi in cui uno comincia a mettere un ordine, lo stop è lontanissimo, si comincia a pregare e poi ci prende lo stop e poi se ne fa un altro peggiore perché si vuole recuperare. Tutte queste cose tipiche di chi comincia, che sembra quasi un percorso obbligato, ma io vorrei evitare che questo accada, cioè sono qua apposta per cercare di non fare la stessa fine ad altre persone che come me hanno deciso di iniziare questa straordinaria attività che è molto bella da un certo punto di vista perché ti lascia la libertà nella vita, ma altrettanto è difficile perché insomma non si tratta solo di far quattro chiacchiere e raccontarsela su, si tratta di far quattro chiacchiere, credere in quello che si dice, metterci dei soldi e poi vedere come va a finire. E non è proprio la stessa cosa, oltretutto vi posso garantire che non è una strategia che basta, la strategia è una piccola parte di quello che è la propria capacità di operare nel modo corretto, che si intende per la fattispecie di poter mettere dei soldi credendo in se stessi, credendo esattamente in quello che si sa, non in quello che si dice, nella notizia, nel dato macro, nel Berlizzani di turno che ci racconta riscogno, riscoff, no, credendo esattamente in quello che si vede e si sa e aver fatto tutta una serie di passaggi prima per misurare che quello che si sa è esattamente la cosa giusta e anche questo non è poi così scontato. Pertanto, a un certo punto nella mia vita, dopo forse nel 2009, allora faccio una piccola premessa, scusate, cioè che io nei primi tre anni ho perso, ho perso soltanto, per tre anni, ho perso tanto ovviamente, e pensavo che fosse facile e mi sono licenziato subito perché volevo fare il trader, cioè non ce l'era, per un solo scopo, fare i soldi, quelli veri, non mi bastava uno stipendio da quasi 200.000 euro all'anno, ma volevo fare i soldi, poi mi sono scontratto con la realtà. Detto questo, cosa succede? Che i primi tre anni ho perso il tanto, poi ho perso il guadagnato, ma non ero costante, cioè per essere costante ci ho messo dieci anni, non è poco, e per essere costante ho fatto un profondo cambiamento dentro il mio modo di pensare, di vedere le cose, di vedere quello che si dice in giro, di vedere come la si pensa da un punto di vista personale e come la si pensa da un punto di vista della società, cioè cosa la gente ti induce a pensare, al che sono arrivato a una conclusione, quando ho cominciato ad essere profittevole, cioè che sono tutti degli idioti, me compreso, ovviamente, perché se si sbaglia non è che vuol dire che il mercato è cattivo, ci prende gli stop, o cose che si racconta alla gente tra il lusco e il brusco, come si suol dire, anzi, significa semplicemente che si sbaglia, e per sbagliare vuol dire che non si fanno le cose corrette, e se non si fanno le cose corrette vuol dire che non si vede giusto, non si vede quello che si ha davanti, perché sapete, a mercato formato è semplice, il prezzo non è casuale, le strutture ci sono, i massi e i minimi li vediamo, e perché non siamo capaci di fare la stessa cosa quando mettiamo i soldi? Questa è una domanda doverosa che ognuno di noi si deve fare, almeno ognuno di noi che perde dei soldi, allora mi sono dato del coglione, ho detto, cazzo io sono un coglione, ma poi ci ho pensato, sono dato dei forum, ho scritto, ho capito, e ho capito che sono tutti dei coglioni, no, neanche dei coglioni, degli idioti, e per arrivare alla conclusione del genere, ho dovuto veramente sudare sette camicie per capire che io sono un idiota, e accettare questo fatto, ma successivamente fare un secondo passaggio, cioè diventare un coglione, perché il mondo si suddivide in tre categorie, gli idioti, che sono quelli ipnotizzati dal marketing, dal fatto che c'è qualcuno che deve scegliere per noi, dal fatto che quello che si dice è più giusto di quello che pensiamo, dal fatto di non vedere ciò che abbiamo davanti agli occhi, eccetera. Poi ci sono i coglioni, i coglioni sono quelli un po' bravini, che sanno pensare con la loro testa, ma che purtroppo si fanno fregare, si fanno fregare e questo è quello che accade, cioè che qualche volta il mercato ti frega, qualche volta qualche stop si prende, e bisogna saper incassare anche qualche stop per poi dopo gioire quando prendi i profitti, ma saperli prendere tutti, non prendere le briciole. E lì è un altro passaggio. Poi ci sono gli intelligenti. Quindi ho definito 85% di persone come degli idioti totali, cioè quelli che non sanno pensare proprio niente e se pensano qualcosa è più delle volte sbagliato. I coglioni, che sono quelli che sanno pensare con la loro testa, ma che non sono nessuno. E poi ci sono gli intelligenti. appartengono alla categoria degli intelligenti, per esempio i politici, ma non solo, anche molti commercianti, eccetera, ma soprattutto i politici. E gli intelligenti cosa fanno? Che sono esattamente il 5%, direi. Sono tutte cifre spannometriche, no? Gli intelligenti sono quelli che si fottono gli idioti e i coglioni. E gli idioti sono costretti a farsi fottere, perché la loro potenza di fuoco nella società, nella vita, è bassa. Quindi anche se vai, volessero ragionare diversamente, sarebbero sempre degli idioti. Quindi io tuttora oggi sono un idiota e me ne vanto di essere questo perché perlomeno ho una marcia in più, direi, rispetto a tanti. Quello di essere da un punto di vista oggettivamente onesto sia nella vita ma anche questa onestà intellettuale di dire esattamente quello che penso, pare al pane e vino al vino. E di credere che in me stesso anche, cioè credere che quello che penso non è poi così sbagliato, è esattamente quello che vedo. Se qualcuno vuole dirmi il contrario, bene, non mi deve fare un discorso campato per aria, mi deve dare dei dati oggettivi incontroversibili su cui quello che vedo e quello che penso è sbagliato. E allora accetto, se no ho fatto un passaggio, un percorso, un percorso che solo il trading me lo poteva dare, solo il fatto che io abbia dovuto mettere, credendo esattamente in me stesso nelle cose che faccio, solo lì potevo fare questo passaggio che era obbligato nella mia vita per diventare un trader vero, un trader capace di operare nel mercato. Allora, questi sono dettagli non da poco perché il nostro cervello tende un po' a semplificare le cose ma chi ha operato dal principio per un anno o per due sicuramente è incappato negli errori, nel fatto di non credere in se stesso, nel fatto di pensare che ti vanno a prendere gli stop, nel fatto di pensare un sacco di cazzate. Ora, si tratta di fare quel passaggio di capire di essere degli idioti che non vuol dire niente, cioè non è un insulto, semplicemente che il mondo ci ha abituato a essere così e incominciare a pensare con la nostra testa. In quel caso si diventerà dei coglioni. Vi piace? Questa è la vita, amici miei. Ah, dimenticavo! Se volete iscrivervi al canale, le iscrizioni sono aperte, ma non me ne frega un cazzo. Se pensate che io dico cazzate, benissimo, liberissimi di crederlo, andate pure da un'altra parte, tanto vi dirò e vi dico che in giro è pieno di gente che racconta cazzate. Ciao!